In Italia l'11 giugno andranno al voto circa mille comuni, stessa data scelta dalla giunta regionale per l'isola, dove oltre un milione e mezzo di cittadini saranno chiamati ad eleggere sindaci, consigli comunali e circoscrizioni. Una data per l'eventuale ballottaggio sarà l'ultima domenica del mese. In provincia di Ragusa, come è noto, si vota in cinque comuni, Chiara Montegulfi, Gerratana, Monterossoalmo, Pozzalle, Santa Croce e Camerina. Su questa data dell'11 giugno, tra l'altro, era sorto qualche dubbio, visto che in molte scuole in quel periodo sono in corso gli esami. Dall'ufficio scolastico regionale hanno però chiarito che non ci sono problemi di improposito. Si attende in ogni caso la comunicazione ufficiale sulla richiesta di disponibilità delle scuole, ma non sarebbe la prima volta, dicono, che le elezioni si svolgerebbero in questo periodo. Nell'isola, tra i centri più importanti dove si voterà, ci sono Cefaluscia, Cavola, Paternò, mentre tra quelli limitrofi alla provincia di Ragusa troviamo Nisceme, Mazzarrone e Vizzini.